In vigore da ieri il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulle misure di contenimento del Covid valide fino al 30 settembre prossimo. Il testo conferma le regole di comportamento già in vigore. Distanziamento minimo di un metro, igiene delle mani e obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi e accessibili al pubblico, ma anche all'aperto se la distanza minima non è garantita. Il decreto recepisce anche le ordinanze emanate dal Ministro della Salute subito dopo ferragosto, obbligando all'uso della mascherina dalle 18 alle 6 nei luoghi aperti al pubblico, dove c'è il rischio di assembramenti, al tampone per chi proviene da paesi a rischio, ovvero Spagna, Malta, Grecia e Croazia, alla quarantena per chi arriva dalla Romania e dalla Bulgaria e conferma il divieto d'ingresso dagli stati inseriti nella blacklist, che attualmente comprende 16 paesi. È consentita una deroga per il ricongiungimento delle coppie internazionali. Chi si trova all'estero potrà entrare in Italia per raggiungere la persona con cui ha una stabile relazione affettiva, anche se non convivente. Confermati gli stop alle discoteche, mentre gli stadi non potranno accogliere il pubblico. Nuove regole, infine, per il trasporto pubblico locale. La capienza di autobus metropolitane e treni regionali potrà arrivare all'80% dei posti, se saranno garantiti efficaci sistemi di aereazione e ricambio dell'aria. Un'estensione ritenuta necessaria in vista della prossima riapertura delle scuole, dove è già previsto che gli scuolabus potranno viaggiare pieni, ma solo se la permanenza a bordo dei ragazzi non supererà i 15 minuti. Approvato venerdì scorso dall'Aula del Senato, con fiducia al Governo, il disegno di legge di conversione del decreto semplificazioni. E ora in discussione alla Camera, dove farà un passaggio lampo e senza modifiche. Tra gli emendamenti approvati segnaliamo quello relativo alla partecipazione dei raggruppamenti di consorsi alle gare pubbliche. In audizione oggi, alle 14.30 in Commissione Bilancio del Senato, Alleanza delle Cooperative sul Decreto Cosiddetto Agosto, ovvero il testo che proroga ed estende le misure di sostegno all'economia già introdotte con i decreti Cura Italia e Rilancio, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 7 agosto e che dovrà essere convertito in legge entro il 14 ottobre. Contiene disposizioni sul lavoro e sulla fiscalità e misure per la tutela del patrimonio culturale e per lo spettacolo.